Espresso per la verità questa perplessità forte avendo anch'io in qualche maniera vissuto sulla mia pelle l'attribuzione di più compiti e più funzioni in corso d'opera. Io credo che se si vuole fare una buona gestione amministrativa diventa difficile essere sindaco, presidente della provincia e presidente della comunità montagna. Le tre figure sostanzialmente hanno compiti diversi ma hanno anche responsabilità e rappresentanza politica diversa. La provincia deve interessarsi e farsi carico dei problemi dell'intero territorio. La comunità montana è un territorio più ristretto, il comune è un particolare. Le tre figure corrono il rischio di confliggere nel momento in cui gli interessi di parte vengono messi in campo. Sarebbe giusto o opportuno politicamente rinunciare a qualcosa secondo lei? Io credo che sia opportuno, così come diciamo che con la magistratura se dividiamo i compiti d'EPM da quelli del giudicante darebbe maggiore tranquillità al cittadino, analogamente in questo caso. Se dividessimo questi compiti forse sarebbe meglio.